ben tornati su round two pronti per un altro contenuto direttamente registrato da los angeles che fa parte del nostro coverage della summer game fest per un'occasione importantissima ovvero per condividere con voi le nostre impressioni su quella che è stata a mani basse la conferenza migliore degli ultimi tempi e non solo parliamo ovviamente della conferenza microsoft lo showcase di microsoft a cui ha fatto seguito poi un direct molto approfondito dedicato a starfield e ne parleremo proprio nella parte finale di questo contenuto conferenza che veramente ci ha lasciati a bocca aperta per ritmo per quantità per diversificazione è stata una conferenza che sebbene lo voglio dire abbia sia stata un po carente dal punto di vista della quantità di gameplay perché tanti dei titoli annunciati presentati sono stati mostrati con dei trailer che poi non facevano capire bene come saranno fisicamente i giochi a volte spesso erano in engine e poi in realtà non c'era il momento in cui il salto diciamo arrivava ok cosa gioco cosa vedo come sarà l'ad eccetera eccetera dicevo nonostante diciamo questa carenza che secondo me va registrata è stato uno show davvero impressionante che ci ha lasciato capire come sarà il 2023 e il 2024 di microsoft perché è stata una conferenza che si è concentrata anche molto sulle produzioni first party ma una conferenza che ha ospitato anche tantissime third party e che quindi al di là appunto della capacità di delineare il futuro dell'ecosistema xbox è stato un appuntamento secondo me importante e per me anche imperdibile per il videogiocatore a 360 gradi guarda sono ovviamente d'accordo con te devo dire che è stata un'ora e mezza così ricca da risultare quasi travolgente nel senso che gli annunci si sono susseguiti con una velocità con una varietà una freschezza davvero lodevolissime tra l'altro siamo partiti subito forte con un fable che è tornato a mostrarsi seppur dando un'idea molto più di quello che sarà il tono e l'atmosfera deliziosamente british rispetto all'effettiva diciamo far far mostrare diciamo quella che sarà l'effettiva sostanza del gioco in sé per sé tra l'altro curiosità c'era questo taglio un po da sitcom con i rarissimi momenti in cui hanno mostrato delle fasi diciamo più o meno di combattimento che ricordavano da vicino lo scontro con la nonna di angreboda di god of war ragnarok mi immagino cosa devono aver pensato quando un anno fa di fatto sono trovati a giocare la stessa cosa a volte succede però dicevo in generale c'è stato davvero tantissimo per tutti e oltretutto scusate la ripetizione sostanzialmente disponibile quasi nella sua totalità su game pass al day one sì questo è un discorso che abbiamo fatto spesso cioè il game pass proprio come servizio è ormai protagonista in discorso delle strategie di microsoft e probabilmente per chi frequenta l'ecosistema xbox anche protagonista insomma della vita quotidiana come giocatore guarda io arrivo a dire sempre di più che è un'offerta senza senso nel senso che quello che loro mettono sul piatto rispetto a quello che ti chiedono di pagare tra l'altro ricordiamo con escamotage vari che non sono affatto illegali ma sono di fatto permessi puoi arrivare a spendere molto meno dei 13 euro che dovrebbero si dovrebbero investire mensilmente il risultato però è qualcosa che a livello di offerta per l'utente va oltre ogni logica concezione sia per la ricchezza della proposta sia per la qualità cioè pensare che la grande maggioranza dei titoli presentati oggi siano inclusi dentro questo servizio è qualcosa di fuori di testa voglio dire un gioco come starfield poi ci arriviamo che non ho nemmeno idea di quanto possa essere costato in termini di risorse e effettivamente proprio anche di soldi gratis al day one con la facoltà di pagarlo zero se sei iscritti a un servizio che ripeto comunque di per sé non costa certo molto fuori mercato io però entrerei nel dettaglio dei giochi anche perché questo video rischia di essere altrimenti lungo come la confezione esatto e se sei d'accordo dividerei cioè non andrei con una scansione cronologica no no non si può fare un momento un po' più generale esatto con cui i giochi sono stati presentati ma mi focalizzerei per esempio in una prima fase di questo contenuto sui titoli first party che sono stati tantissimi e ci sono stati dei nuovi annunci dei graditi ritorni e fortunatamente insomma anche delle date d'uscita interessanti si è partiti come dicevi tu da fable fable che ha rivendicato fin da subito quella sua natura di action rpg un pochino non voglio arrivare a dire comico ma con un tono e una leggerezza e un humor squisitamente british che secondo me lo differenzia anche da altri prodotti simili o che si collocano all'interno dello stesso genere guarda faccio un esempio direttamente interno si è visto si è rivisto anche avowed che secondo me fra quella che è la produzione per me la nota più sonata dell'intero show sembrava lo skyrim wannabe diciamo così ecco se avowed era un fantasy super classico e super tradizionale fable invece con quest'idea di recuperare anche l'iconografia delle favole e di rileggerla con un senso of humor davvero brillante mi ha fatto una bella impressione fermo restando che poi del gioco ahimè non si sa niente la differenza grossa che voglio evidenziare subito è che su avowed ci sono state secondo me delle carenze artistiche tecniche eccetera ma c'è anche un nome quello di obsidian che è garanzia di qualità da tutt'altra parte e quindi diciamo che se mi ha un po deluso soprattutto nell'estetica e nel suo essere davvero molto già visto sono certo che possa trovare invece delle conferme enormi dal punto di vista della scrittura e dell'esperienza di gioco in generale la differenza anche grossa è che avowed si è visto si è capito che cos'è fable assolutamente no serve comunque un po diciamo una specie di atto di fiducia e tra l'altro secondo me fable è uno di quei giochi che non verrà pubblicato nel corso del 2024 perché chiaramente si va più in là ecco quello che voglio dire che lato microsoft come first party si delinea un 2023 con due titoli incredibilmente solidi di starfield l'abbiamo detto parliamo dopo l'altro è forza che arriva all'inizio di ottobre è una data che è importante e che rende il mese di ottobre il 6 ottobre se non ricordo male ancora più selvaggio veramente una cosa sarà una royal rumble importante assoluta diciamo che al di là di questi due per quanto riguarda la produzione interna il 2023 rischia di essere un filo scarico affermo restando che scarico probabilmente non si potrà giocare per i prossimi 12 anni scusatemi starfield per i prossimi 12 anni il 2024 sembra invece decisamente più solido e più importante anche da quel punto di vista lì però diciamo che su titoli in arrivo in futuro c'è stata secondo me comunque un po' poca concretezza faccio il nome per esempio di hellblade 2 tornato finalmente a mostrarsi tornato a mostrarsi con un momento da brividi perché soprattutto a livello audio era qualcosa di incredibile e tra l'altro anche graficamente lo sappiamo è uno dei giochi portabandiera diciamo della real engine 5 ci stanno lavorando da tantissimo tempo è anche vero che dopo così tanto tempo e onestamente quello è un gioco che arriverà nel 2024 e che sono assolutamente ce la farà rispettare questa data che per ora rimane generica mi aspettavo che partisse nel modo in cui si è mostrato ovvero super emozionale delirio audiovisivo fuori scala ma che si concludesse con una parentesi di gameplay effettivo anche per esempio per farci capire quanto torneranno magari a dare enfasi a un'esperienza un po' più narrativa e quanti invece daranno concretezza al sistema di combattimento che è una cosa che io un po' mi aspetto e invece zero non si è vista è stata concretezza uguale per esempio per south of midnight arriviamo appunto anche ai nuovi annunci sono stati due il primo è quello di south of midnight finalmente sappiamo che cosa fanno i ragazzi di compulsion games che lo ricordiamo sono gli sviluppatori di we have few acquistati proprio da microsoft acquisiti insieme a playground games e però poi spariti nel nulla tornano con questo trailer in cg dallo stile bellissimo però del gioco non si sa niente si è vista questa sorta di immaginare un pochino voodoo sostanzialmente con un gigante che suonava una chitarra altrettanto mastodontica il gioco sulla pagina di steam viene indicato come un titolo single player action in terza persona però al di là di questa brevissima descrizione del nome della protagonista che adesso non ricordo che dovrà diciamo sfidare delle creature mitologiche non si sa niente un po' più invece concreto l'annuncio di clockwork revolution che tra l'altro non mi aspettavo assolutamente che è il nuovo titolo di in exile team di brian fargo anche quello acquisito da microsoft che si era distinto per wasteland 3 e quindi per diciamo un canone da crpg quindi rpg classico proprio con visuale un po' isometrica e tutto il min maxing e invece ci presentano uno sparatutto in prima persona che ha molti elementi di continuità estetici e secondo me anche ludici con bioshock infinite con questa città un po' steampunk ci sono anche degli elementi legati al controllo del tempo ed il resto il titolo con questi meccanismi un po' a orologeria lo sottolinea un pochino e la possibilità di passare tra varie linee temporali e forse anche un po' alla singularity alterare diciamo il tempo soggettivo di alcuni edifici o alcuni oggetti c'è stato poi un aggiornamento su due giochi che microsoft continua a supportare in realtà uno che è sea of thieves ha avuto un aggiornamento che arriverà a breve con un incrocio con una licenza molto particolare come quella di monkey island perfetta per quell'immaginario eccezionale e tra l'altro diciamo anche sembrava bella ricca nel senso che avrai la possibilità di esplorare luoghi e tormentoni che riguardano l'avventura grafica di ron gilbert oltre a quello c'è stato un contenuto che arriverà per flight simulator già esistente legato al nuovo film di dune con l'ornitottero che diventa disponibile ma soprattutto un flight simulator 2024 che arriverà l'anno prossimo e che promette di aggiungere al di là di tutta quella ricchezza incredibile che già è presente nel titolo disponibile con quella maniacalità nella ricostruzione del reale tutta una serie di attività direi quasi un po' ludiche legate a derive più o meno probabili diciamo legate al mondo del cielo cioè dal volo con i palloni aerostatici alla ricerca scientifica in sé per sé le missioni di salvataggio nelle zone remote del mondo cioè chi più ne ha chi più ne metta davvero sembrava una specie di enciclopedia del volo applicato a situazioni super peculiari secondo me bravissimi comunque a prendere la base di flight simulator che era quella di una simulazione davvero impeccabile e renderla un pochino più gioco cioè metterci delle missioni quindi secondo me i ragazzi di asobo stanno procedendo su una direzione che potrebbe veramente incuriosire anche magari gli utenti che cercano un approccio più ludico meno simulazione guarda fammi solo dire in chiusura per quanto riguarda xbox diciamo first party ripeto sicuramente tante cose interessanti diverse tra loro non mi sento assolutamente perché ho sbirciato un po' di cose online ho anche qualcuno in chat da noi oggi a proposito grazie per essere stati così tanti a seguirci con noi e con anche Andrea Pessino nel caso recuperatevi la letter che è stata molto piacevole dicevo è vero che xbox aveva in passato messo un po' sul tavolo diciamo virtualmente tantissimi progetti che non si sono ripresentati penso a perfect dark penso ovviamente poi a ritorni di saghe tipo il nuovo gears eccetera eccetera l'unico che forse mi aspettavo che non sia rivisto non è mai un problema vista la quantità e la qualità del materiale presentato dovendo fare un nome però è Indiana Jones il progetto di machine games legato a un'icona ovviamente cinematografica annunciato qualche tempo fa a questo punto mi verrebbe da dire tanto per cambiare annunciato con larghissimo anticipo arrivando tra poche settimane il film l'ultimo episodio al cinema poteva esserci una sinergia a livello di marketing che non c'è stata ma va bene guarda prima di passare invece alle terze parti agli altri titoli voglio solo citare che in chiusura phil spencer aveva una maglietta particolare quella di exen di solito phil spencer fa un po' di questi giochini comunica con le magliette la maglietta è la sua one more thing quindi secondo me abbiamo ricevuto sempre in tema di first party un indizio su che cosa sta facendo id software lo vedremo probabilmente fra magari fra qualche mese anche al quake con agosto o luglio diciamo che è una deriva che noi ci aspettavamo un po' tanti vorrebbero il team al lavoro su quake siamo concordi nel ritenere e lo dicevamo già prima eh che exen con il ritorno sulle scene per esempio del fantasy di dark souls di elder ring eccetera eccetera potrebbe unire da un lato quella visceralità che è propria di doom ha invece uno stile che si è un po' perso nel tempo dagli una modernità che forse quake secondo me in parte invece ha già perduto anche perché il nuovo doom un po' è andato a recuperare quel tipo di impostazione di immaginario lì sicuramente quella maglietta non era casuale sicuramente ma arriviamo anche appunto alle terze parti e preparatevi perché ce ne sono tante comincerei rapidamente in realtà da ubisoft che ha mostrato star wars outlaws a sorpresa il nuovo titolo di star wars sviluppato da massive non entriamo troppo nel dettaglio perché si è mostrato solamente con un video in cg con la promessa invece di un gameplay ovviamente nella conferenza di ubisoft che ci sarà domani anzi voi che ascoltate questi episodi probabilmente oggi stesso quindi poi entriamo più nel dettaglio in quell'occasione da citare anche la parentesi di atlas che in realtà non è stata proprio una parentesi specifica perché i tre titoli presentati da atlas sono stati collocati in vari momenti della conferenza parentesi che parzialmente era stata depotenziata ahimè da dei leak purtroppo fatti da atlas stessa noi ovviamente abbiamo fatto di tutto per evitare di raccontarli però insomma è arrivato alla conferma di una di un remake di persona 3 che si chiama reloaded di uno spin off invece di persona 5 che si chiama persona 5 tactica che quindi va a recuperare appunto come dice il nome all'impostazione già malaffare l'idea la sorpresa più grande è stata metafor re fantazio un titolo che a noi italiani probabilmente fa un po ridere è il vecchio project re fantasy e io sono rimasto letteralmente ammaliato da un prodotto che riesce a reinventarsi una mitologia completamente nuova lontana appunto da i megaten e che è ammaliante appunto dal punto di vista estetico è ovviamente un rpg con un pochino secondo me della lezione di persona 5 dal punto di vista i punti di contatto a livello anche di design hanno forti però diciamo che rispetto a persona 5 dove c'è un forte collegamento con il mondo reale con degli elementi invece bizzarri demoniaci eccetera qua la base di partenza è un fantasy comunque reinterpretato e piuttosto originale al quale vengono applicati in maniera a volte anche un filo letterale certe soluzioni di design in certi menu che abbiamo visto appunto nel capolavoro apprezzatissimo di atlas con uno stile suo che effettivamente secondo me può tra l'altro funzionare benissimo sia in oriente che in occidente perché mi sembrava esotico per entrambi diciamo i mondi e devo dire grandi grandi aspettative sempre per fare grandi nomi citiamo la presenza di phantom liberty il dlc di cyberpunk 2077 che si è mostrato con un trailer ovviamente con grafica in game però senza concentrarsi troppo su sequenze di gameplay diciamo non alterate dal montaggio trailer un po furbetto un po sgamato diciamo che il trailer ha proprio fatto vedere una cosa impeccabile se volete saperne di più sul gioco qui sul nostro canale youtube andate a recuperare il video perché abbiamo come dire analizzato approfonditamente quello che in realtà abbiamo anche giocato per un'ora intera quindi le impressioni su quello diciamo le lasciamo lì fermo restando che è stato comunque secondo me una presenza importante all'interno dell'economia dello show uno show che in generale tra l'altro a livello di terze parti ha veramente presentato dei pesi massimi clamorosi con un nome occidentale come quello di ubisoft ma anche con tanto oriente abbiamo parlato di atlas c'è stato un annuncio abbastanza surreale di sega con ryoga gotoku sì un like a dragon infinite wealth che è appunto non lo sappiamo esattamente forse uno strano spin off della saga yakuza appunto ma la sorpresa più grande e secondo me anche uno degli annunci più di impatto proprio a livello estetico scenico ce l'ha fatta capcom con un prodotto che abbiamo scoperto poi si chiama kitsunigami l'abbiamo scoperto dopo perché appunto il titolo è composto da questi kanji che ovviamente noi non sappiamo leggere il sottotitolo è path of the goddess per un po' noi credevamo di trovarci di fronte ad un nuovo onimusha non è così non è così ma è così nel senso che è un gioco un hack and slash in terza persona poderosamente direi incentrato su una rivisitazione demoniaca del del giappone feudale con tra l'altro un'idea secondo me visivamente strepitosa di una spada del protagonista che lascia dei segni nell'aria che sembrano quasi degli effetti tipo il caleidoscopio dei dei pattern molto molto astratti e bizzarri colpo d'occhio veramente interessante per me sorpresa dello show è una di quelle cose che era tipo iniettatemelo in vena adesso perché non so voglio sapere di più mi sembra bellissimo si è capito molto poco dubito che sia un'esclusiva però comunque avere la presenza lì dentro secondo me a livello di comunicazione è stato sicuramente un segnale fortissimo assolutamente citiamo qualche altro titolo un po' rapidamente perché poi dobbiamo passare anche a Starfield se no rispiamo veramente di fare un contenuto lunghissimo si è visto Towerborn che è il nuovo progetto di Stoic gli sviluppatori di The Banner Saga una saga che appunto viene purtroppo dimenticata troppo spesso ma che invece a livello di... grande valore si è un grande valore a livello scenico, estetico, narrativo e anche di strategia si è visto Still Wakes the Deep che invece è un horror in prima persona di The Chinese Room questo team non so se lo conoscete ma nel 2013 ha di fatto ideato un po' gli walking simulator con The Arrester e poi da lì ha messo un pochino le mani anche nella saga di Amnesia con Machine for Pigs ovviamente trailer molto molto rapido però d'atmosfera un horror, una piattaforma petrolifera esatto si è rivisto, anzi si è visto per la prima volta il nuovo titolo di Thunder Lotus che sono gli sviluppatori di Spiritfarer 33 Immortals tipo i 33 trentini che è una sorta di hack and slash con visuale isometrica volendo un po' alla ADIS un ADIS per 33 giocatori online sì, senza però avere probabilmente la perfezione e la pulizia di ADIS visto così sembrava un legno pazzesco però l'idea di una coppa a 33 giocatori è sicuramente bizzarra chiudo invece con un'altra grande sorpresa vai, che è il secondo che ci è piaciuto di più o il primo in alternativa si chiama Jusan, credo, o Jusan, non lo so è il nuovo titolo di Don Nod sappiamo l'azienda di Life is Strange essere impegnata contemporaneamente su un sacco di progetti diversi questo è un simulatore d'arrampicata in terza persona ambientato in un universo fantasy che devo dire mi ha colpito sin da subito ha uno stile unico, super riconoscibile è un gioco incredibilmente colorato è un gioco di quelli che istantaneamente secondo me ti colpiscono proprio perché è tanto diverso da tutto il resto non ha avuto paura di osare dal punto di vista, ripeto, cromatico dell'atmosfera eccetera eccetera è anche tra l'altro secondo me gioiosamente lontano da quello a cui ci avevano abituato loro quindi apprezzo tantissimo il coraggio e anche ludicamente perché loro sono sempre stati più focalizzati sul racconto rispetto all'interazione cioè mi aspetto che ci sia comunque una componente narrativa non trascurabile però è vero che è un gioco che sembrava avere una componente proprio dinamica di scalata, di movimenti eccetera non banale mi ha davvero questo e quello di Capcom per me in assoluto sono delle cose ribadiamo sviluppato da Dontnod perché insomma il team francese si è messo a fare anche publishing recuperando dei prodotti invece sviluppati da altri questo invece è proprio sviluppato in house ma arrivati a questo punto non resta che dedicare una parentesi invece al titolo che ha non tanto chiuso lo show non è stata una One More Thing e non c'è stata una One More Thing allora Phil Spencer l'ha venduta un po' come One More Thing anche se non era una One More Thing classica anche una annunciata esatto perché alla fine dello show ci sono stati una quarantina di minuti di directs quindi di video dedicato proprio a Starfield e secondo me il fatto che non ci sia stata una One More Thing classica lo dicevo anche in diretta è stato opportuno perché forse avrebbe un po' tolto a livello di attenzione e buzz mediatica il focus su quello che invece si è delineato come uno dei prodotti secondo me, io lo dico, più ambiziosi di sempre nel mondo videoludico no no, della storia del videogioco cioè Starfield Starfield si è veramente presentato come un titolo ricco a un livello inimmaginabile pienissimo di sistemi, di idee, di possibilità quasi tre o quattro giochi in uno no no, senza quasi io dico una cosa che secondo me è significativa della scala fuori parametro di questo gioco hanno mostrato 40 minuti di roba parlando continuamente mentre mostravano immagini di gioco in questi 40 minuti hanno detto che comunque non hanno rivelato tutto e anzi, proprio sul finale c'è stato per esempio un'allusione al fatto che i personaggi possano avere dei poteri tipo psionici, tipo la forza, roba del genere che è stata lasciata lì hanno detto che ci sono anche altri elementi di cui non parliamo 40 minuti in cui non c'è stato la classica sessione di diciamo gameplay demo magari da 10 minuti in cui vedi un tizio che fa una missione e fa delle cose non perché abbiano voluto nasconderla ma perché c'era talmente tanto da dire talmente tanti sistemi da spiegare talmente tante possibilità da mettere in gioco che comunque hanno parato per 40 minuti e non potevano che presentarlo così questo gioco sono d'accordo è una cosa fuori senso perché mentre tu lo guardavi ogni volta dicevi no ma non può essere vero non può esserci tutta questa roba ricordiamo che tra l'altro arriva il 6 di settembre quindi è davvero dietro l'angolo e ogni volta che sembrava aver superato qualsiasi tipo di standard arrivava un nuovo sistema cioè faccio un esempio dopo che già si era vista la scala fuori veramente fuori da ogni grazie di Dio delle dimensioni dei pianeti mille pianeti procedurali eccetera il fatto che ci siano le battaglie nello spazio il fatto che ci sia tutta la componente ruolistica che peraltro ricordava in certe interazioni molto mass effect eccetera eccetera la raccolta dei materiali a un certo punto dice e le astronavi? alle astronavi si possono customizzare tutte e parte un editor ma un editor che poteva essere tranquillamente un gioco a sé assolutamente super elaborato Kerbal Space Program inserito lì dentro con la possibilità di andare a cambiare i pezzi che hanno sia un valore puramente estetico tutti customizzabili nel colore nella forma eccetera ma anche poi ludico nel senso che hanno spiegato se mettete un reattore più potente la nave va più lontana la nave che poi si può gestire a livello micro nel senso che cambiare addirittura le singole cabine proprio a livello estetico diventa Animal Crossing spaziale ma poi anche pilotare e di volta in volta riassegnare dei parametri per cui ok stiamo entrando in battaglia la schiero diciamo con un'idea di dare più potenza alla parte degli scudi dei cannoni voglio usarla come nave cargo potenzio il movimento incredibile incredibile non entreremo nel dettaglio di tutti questi sistemi perché altrimenti ne verranno fuori un altro video sostanzialmente lungo quanto tutto il commento della conferenza se non addirittura di più citiamo qualche nota negativa in alcuni momenti la tecnologia schierata da Bethesda ci è sembrata un pochino scricchiolante parlo più specificatamente delle animazioni degli NPC dei personaggi secondari e delle animazioni facciali che lo ammettiamo sono bruttine sono vecchie è un gioco con un'ambizione sconfinata ma anche un gioco che da certi punti di vista per me è in maniera abbastanza ingiustificabile nel senso che comunque è vero che stai facendo una cosa che guarda tantissimo avanti però oggi lo standard del videogioco da quel punto di vista lì del convolgimento delle azioni facciali è molto sopra d'altro canto invece le ambientazioni a livello proprio di impatto scelto globale respiro e anche diversità sono abbastanza incredibili loro sembra che abbiano voluto fare quasi un'enciclopedia della science fiction c'è la science fiction molto futuristica la Mass Effect quella di frontiera un pochino alla Star Wars c'è anche di frontiera alla Far West c'è il Far West c'è una science fiction legata un pochino più a sfumature horror quindi è un'esplorazione quasi degli intestini dei pianeti che andremo ad esplorare c'era molto la No Man's Sky diciamo etologica c'è un creatore da proprio andare a vedere da analizzare c'è tutta la parte di fauna e flora unica tra l'altro anche piacevolmente aliena ecco un'altra cosa che secondo me da citare tra i potenziali difetti mi è spiaciuto che sia un gioco comunque fortemente antropocentrico nel senso che tutte le creature che incontri a parte quelle diciamo gli animali a parte la fauna endemica dei pianeti sono comunque altri esseri umani ed è un peccato perché secondo me lo depotenzia molto rispetto a quel gusto che per esempio aveva Mass Effect di mischione di razze aliene che fa parte della science fiction permettimi di dire invece una cosa secondo me stra positiva poi parliamo anche dello shooting che ci ha convinto un po' meno visivamente è una bomba c'è un'illuminazione anche a livello proprio puramente tecnico ci sono dei passaggi secondo me sbalorditivi su un gioco con una scala di questo genere davvero clamoroso andrà a 30 fps si è già stato confermato e insomma il team ha preferito dare priorità alla risoluzione però per un prodotto così secondo me ci può anche stare anche perché appunto lo shooting e qui arriviamo a un'altra forse delle note dolenti non è mai l'elemento uno dei pilastri centrali dell'esperienza di gioco almeno a giudicare da quello che si è visto non che le armi non siano caratterizzate come un bel tiro però è sembrato proprio mancare un po' delle routine di intelligenza artificiale degli avversari un po' delle reazioni degli avversari e quindi complessivamente nei momenti in cui poi il protagonista o la protagonista si mettono a sparare è mancato proprio quel piglio che ti fa che avvicina il prodotto alle sensazioni di un fps o di un tps visto che si può giocare con entrambe le visuali quindi è un prodotto che si concentra di più sugli elementi ruolistici sulla customizzazione in tutto e per tutto dalle caratteristiche del personaggio con i tratti proprio da gioco di ruolo Bethesda ha tutta la componente anche organizzazione dell'accampamento spaziale cioè pensate che fai combattimenti con le astronavi ma c'è anche volendo l'abordaggio cioè se riesci vai su una nave di un nemico le ammazzi tutti con le pistolettate in faccia o anche corpo a corpo quell'astronave se non l'hai distrutta è tua la aggiungi alla flotta cioè hai una flotta di astronavi c'è poi un sistema di companion che possono essere reclutati tutti hanno una questline caratteristica che ti permette di aumentare l'affinità veramente sicuramente sicuramente ci siamo anche dimenticati qualcosa per forza però è un prodotto che proprio in nome di questa sua grande ambizione e di questa sua capacità di mescolare intrecciare sistemi diversissimi non può che non affascinarti poi è chiaro i prodotti vanno giocati e bisogna vedere se questa integrazione che loro sono stati bravissimi a raccontare poi ci sarà anche nel gioco però anche se i sistemi dovessero essere diciamo un pochino meno cioè dovessero parlarsi un po' meno l'uno dall'altro anche se dovesse essere un pochino meno approfonditi come per esempio sembra superficiale lo shooting ma solo il fatto che tutta sta roba coesista in un pacchetto unico per me è da applausi a scena aperta cioè è incredibile così come da applausi a scena aperta è il lavoro estetico che hanno fatto sull'interfaccia e sul menu che è veramente fuori di testa tra l'altro questo lavoro estetico l'hanno anche un pochino riportato nel merchandise hanno annunciato un orologio un albi un collector edition bellissimo in generale tutta questa diciamo impostazione l'hanno definita nasa punk con un'idea di spazio che esiste come esplorazione cioè l'idea che tu sia proprio una specie di magellano del futuro con una tecnologia che però è rimasta più ancorata diciamo alla funzione che non alla forma senza troppi orpelli senza troppi vezzi ma comunque con un'unicità sua nei colori nei pattern ragazzi è qualcosa di magico la prima IP originale di Bethesda negli ultimi 25 anni promette di essere qualcosa che comunque lascerà in segno io direi insomma che siamo un po' arrivati alla fine di questo contenuto un po' più lungo del solito ma perché torno a ripetere è stata nell'insieme considerando anche il Direct di Starfield una conferenza ricchissima secondo me veramente Microsoft ha insegnato come si fanno gli show avrei preferito ripeto un pochino di gameplay in più soprattutto nella parte iniziale però torniamo a casa secondo me con uno show che resta un pochino negli annali di Microsoft sicuramente come minimo ma non solo con uno show che non per fare polemica ma secondo me lo dicevamo anche in live questo è uno show che al di là del first party mostra delle cose dove comunque c'è di una solidità incredibile cioè c'era Starfield appunto mostra quella che è un po' la direzione dell'industria in generale da questo punto di vista il PlayStation Showcase senza voler fare console war o paragoni per forza però in quel mercato lì stiamo nella comunicazione è giusto anche analizzare le due facce della medaglia secondo me il PlayStation Showcase dove è mancata clamorosamente PlayStation anche in tutto il resto è stato molto sotto invece agli annunci che si sono stati qui ripeto che magari non sono esclusive anzi non lo sono quasi mai ma non lo erano nemmeno dall'altra parte però quello che c'è stato qui dentro ragazzi è stato davvero davvero di valore chiusura rapida per questo contenuto che è durato un pochino più del solito grazie mille per averci seguiti continuate a farlo perché il coverage della Summer Game Fest non è finito ci sarà la conferenza Ubisoft ci saranno cose che potremo raccontarvi ci saranno cose che potremo raccontarvi quando scadranno degli imbarghi non mi nascondo dietro un dito sto parlando di Armored Core e quindi insomma della nuova produzione di Front Software restate con noi grazie ciao grazie a tutti